...un cavallo, probabilmente si tratta di Murallao, se non andiamo errati. E in partenza c'è la velocità di Opsdeni che supera l'Iroigio, poi... ...parti invece molto piano Nina Diazzurra, all'esterno Narina Jetta, la Cordo Orfeo Jett. In vantaggio, Opsdeni guida deciso dopo 200 metri di gara in 14.4, però Narina Jetta non si lascia incantare, viene all'esterno, va subito a chiedere strada, dopo 300 metri di gara Narina Jetta va e ottiene per condurre così dopo 400 metri esatti in 29.2. Opsdeni in seconda posizione, poi l'Iroigio, ancora Orfeo Jett, gli altri, con Michel Trio che risale all'esterno, scoperto, seguito da Nina Diazzurra. Intanto i 600 per Narina Jetta in 44.9, già in decelerazione, 15.7 in curva. Michel Trio risale gradualmente all'esterno, raggiunge Opsdeni dopo 700 metri di gara e avvicina la leader Narina Jetta. In scia c'è Nina Diazzurra che, seguita a sua volta da Nurayev Champ, in coda rimane invece l'Indian Orsfro. Cavalli al completamento del giro in un minuto e quattro decimi, continua a condurre tranquillamente Narina Jetta nei confronti di Opsdeni e Michel Trio in pariglia, poi Nina Diazzurra, chilometro in 1.15.6. Cavalli a 500 metri dal palo con Narina Jetta che controlla, Michel Trio all'esterno di Opsdeni, poi Nina Diazzurra. 400 alla conclusione, il parziale in 14.3, cerca di venire via anche l'Indian Orsfro dalla coda, anticipato però da Nina Diazzurra, con Michel Trio che a sua volta prova nuovamente su Narina Jetta. Cavalli a ventaglio sulla curva conclusiva, retta di arrivo con Narina Jetta che la affronta in vantaggio, Opsdeni in seconda posizione, poi ancora generosamente Michel Trio all'esterno, a centropista anche l'Indian Orsfro finale con Narina Jetta che controlla e viene a concludere, è facile, il secondo posto sul palo è per Opsdeni che controlla Michel Trio, 1.14.4 tanto per cambiare, 29.5 gli ultimi due quarti e triplo per Giuseppe Pistone con Narina Jetta, tra i primi e un secondo anche oggi, Festival per Giuseppe Pistone e Vincenzo Tufano, la scuderia Tognatti.